Ciao, creatura. Io sono meccato e splendente, benvenuta o bentornata nel regno di Gozai, ASMA. Sì, sono in pigiama e volevo parlare un po' con te, creatura, di quello che sta succedendo in questo periodo. Non cose mie, private, ma ciò che stiamo sentendo, leggendo, eccetera, eccetera. Un po' in generale, anche se principalmente l'argomento è femminicidio, eccetera, eccetera. Si può dire su YouTube o mi-pan. Magari nel frattempo, finché parliamo un po' insieme, 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 a questo argomento. Farò qualche trick, farò qualche triggers, qualche suono. Non parlerò nel dettaglio della vicenda di Giulia Cecchettin, ma volevo dire il mio pensiero, se era il mio punto di vista al riguardo, fare qualche riflessione, penso mi sia concessa sul mio canale. Ovviamente chiunque desideri qualsiasi creatura del regno di Gozai può partecipare e commentare dicendo cosa ne pensa e può anche non essere d'accordo con le mie parole. però mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, sempre con rispetto, rispetto, rispetto ed educazione, ok? La vicenda di Giulia Cecchettin L'ho vissuta in modo molto intenso, perché oltre a essere una compaesana di mia sorella, infatti i funerali verranno fatti proprio nel paese in cui mia sorella vive e abita. E oltre a quello, oltre che una ragazza molto giovane, non importa anche se fosse stata una donna o quale, era descritta come una ragazza molto dolce, buona, eccetera, eccetera. Quindi, non è stato un delitto passionale, come viene detto, perché ci sono stati tradimenti e vicende di questo genere. Lei, comunque, non è una giustificazione, è un delitto, è un omicidio. Beh, in realtà, sì, un delitto, un omicidio, può avere una giustificazione quando io vengo, non so, se Giulia avesse ucciso Filippo nel tentativo di salvarsi la vita, sarebbe, secondo me, stato un omicidio giustificato per difesa personale. Però questo è un altro discorso. Quindi, si è creata, diciamo, empatia, perché è una ragazza buona, e quindi il dispiacere è ancora più grande, perché abbiamo perso un'altra persona buona che già scherzeggiano. Quindi, poi, mi sono, purtroppo, ritrovata tanto, tanto tempo fa, anche io, nella situazione di Giulia. Però, per fortuna, io sono qui, però, ripensandoci, anche mia madre mi ha fatto riflettere che sarei potuta, anche io, essere Giulia, e potenzialmente, secondo ogni punto di vista, potremmo essere tutti, sia Giulia che Filippo, potenzialmente, ovviamente, parlando, potremmo, senza alcuna distinzione, uomini e donne. Ho letto delle cose, veramente, assurde per me, tipo, alcuni politici hanno scritto che la sorella di Giulia è satanista perché in una intervista indossava una t-shirt del brand trash che, tra l'altro, questo brand è un brand di skater. Quindi, cosa c'entra con la religione e con il satanismo? Non lo so, però, hanno iniziato, sui social, a far, a dire, insomma, in giro che Eleanor è satanista, prendendo delle foto di lei che aveva un make-up tipo dark horror con una croce rovesciata sulla fronte. Allora, sulla questione croce rovesciata si potrebbe aprire un intero libro perché, come pensai, creatura, i simboli non hanno un unico significato che è quello per tutti forever ma i simboli hanno il significato che gli viene dato in base a chi lo dà e i simboli hanno più significati come le parole e, per esempio, una croce rovescia può essere, sì, usata dai satanisti ma può essere usata anche da persone ate, persone anticristiane e anticristiane non significa sataniste può essere usata da persone dark, ontiche come la croce quella dritta può essere usata da chiunque anche chi non è cristiano per esempio e se vogliamo proprio mettere puntini sulle i San Pietro si è fatto crocifiggere a testa in giù quindi con la croce rovescia e quindi vogliamo dire che San Pietro è satanista che lui invece lo aveva fatto con tutto un altro discorso quindi spostare tutta l'attenzione adesso sulla felpa di Elena e sui make-up horror dark che ho fatto su Instagram mi sembra un po' voler spostare il problema su una cosa totalmente inutile il problema è Filippo che ha ucciso Giulia quello è il problema non la felpa di Elena il problema adesso secondo me è cosa farà la politica cosa farà lo Stato per ponire Filippo io non ho molta fiducia perché ho visto purtroppo assassini con prove schiaccianti filmati eccetera eccetera che dimostrano senza alcun dubbio che loro sono i colpevoli li ho visti fare un mese di carcere e poi liberi liberi quindi cosa faranno e Filippo come si comporterà la legge sarà uguale per tutti o come al solito che ha i migliori avvocati i soldi eccetera eccetera oppure non so in base a cosa alcuni li liberano altri invece li mettono in prigione e buttano la chiave quindi questo io voglio vorrei sapere cosa ne sarà di Filippo la legge provvederà a fare giustizia dato che è chiaro palese a tutti che Filippo è colpevole ho visto poi sui social cose acchiaccianti del tipo adesso giustamente io direi le donne sono in rivolta e sono in rivolta e c'è chi anche uomo capisce la situazione e c'è invece chi su tipo ho visto TikTok per esempio vuole passare vuole far passare l'uomo per vittima cioè Filippo per vittima di cosa non capisco e poi tra l'altro una cosa ancora più acchiacciante hanno creato un gruppo non so se su Facebook o su credo Facebook perché effettivamente Facebook è un po' diventato una cappia di matte altesimo non so bene che sto su Facebook ok la maggior parte sono boomer quindi però vabbè e infatti io Facebook non lo uso da parecchi anni e vabbè comunque a parte questo dettaglio hanno creato un gruppo che si chiama le bimbe di Filippo dove ci sono io spero 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 che sia un gruppo ironico ma temo che non lo sia e poi perché sempre creare scherzare su sti temi si ok black humor però si sta un po' esagerando con questo gruppo qua dove praticamente ci sono ste ragazzette spero che siano delle marmocchie marmocchie patmocchie marmocchie queste marmocchie che dicono scrivono tipo io ma povero Filippo se Giulia lo avesse amato se avesse fatto così se avesse fatto colà lui non l'avrebbe uccisa io potrò dargli l'amore che lui merita un sacco di serial killer si sono rifatti una vita eccetera eccetera queste sono le cose che ho letto e secondo me c'è tipo una specie di feticismo dietro alle persone magari hanno questo feticismo di creare storie d'amore con persone in carcere o persone che hanno ucciso o fatto dei crimini non lo so secondo me c'è qualcosa che non va perché se io di base so che una persona cioè io a parte che non è neanche il mio tipo però se so di base che ha trattato male una persona la ragazza che ha ucciso l'ex cosa del genere io di base già dico il red flag io quello no grazie cioè come penso tutte no best di m stammi una larga che è meglio no questo è oh mio dio wow che sex appeal o cose del genere cioè spirito di sopravvivenza sotto i tacchi proprio non ce l'hanno non ce l'ha proprio neanche solo l'istinto naturale dovrebbe dirti no cosa stai facendo cosa stai dicendo comunque vabbè e spero per loro che sia tutto un gioco e non lo pensino davvero perché non va bene allora adesso si sta parlando ho visto al dg che si parlava di fare educazione a scuola su questi temi può essere utile sicuramente ma io farei in un modo diverso dimmi poi creatura se sei ancora sveglia se sei d'accordo con il mio pensiero con la mia idea che sarà inutile perché nessuno l'ascolteramo io la dico lo stesso allora secondo me io se mi dicessero ecate se mi dicessero ecate fai qualcosa per sistemare questa società una delle cose che farei in per sistemare la la salute mentale di questa società di questa 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 società società allora sicuramente metterei affiancato a un medico di medicina generale ovvero il medico di base quello di famiglia non so come lo chiami tu creatura metterei quello e uno psicologo accanto così andare dallo psicologo non diventa più mega super gustoso ma diventerebbe più accessibile a tutti farei educazione nelle scuole cercando di far capire alle nuove generazioni e alle vecchie generazioni che se hai il raffreddore o qualsiasi altro malanno l'influenza vai dal medico di base se invece ti senti triste frustrato o altre cose in ambito psicologico vai dallo psicologo sei male ai denti vai dal dentista eccetera eccetera normalizzare la figura dello psicologo che attualmente è per la per la maggior parte delle persone è vista come chi va dallo psicologo è matto i matti vanno dallo psicologo ma non è così tutti abbiamo bisogno dello psicologo e farei partire queste visite già da bambini per abituarsi a che è un medico come tutti gli altri che può servirci come vorrei insomma fare delle visite già da bambini come si va dal medico di base come si va dall'oculista per vedere se io no io neanche quello da piccolo quando vai dall'oculista per vedere se il bambino ci vede o no vai anche dallo psicologo eccetera eccetera insomma vorrei far normalizzare questa cosa sai lo psicologo ti può anche aiutare a gestire i sentimenti che si provano e normalizzare anche il fatto che se sei maschio puoi comunque essere triste e piangere e se sei bambina se sei femmina quale cioè mettere i sentimenti sullo stesso piano sia per uomini che per donne e perché siamo tutti esseri siete tutti esseri umani e quindi io farei questo per cercare di cambiare la società in Italia poi se avessi potere decisionale tutto il mondo si potrebbe fare ovunque però ogni cultura è diversa e alcune culture hanno le proprio più resettate cambiate però gli italiani in realtà secondo me c'è tanta ignoranza e soprattutto siamo nati con una cultura che appunto il maggior parte è convinta che alcune cose siano oh mio Dio sono ancora tabù e però secondo me io vedo le persone anziane se le fai ragionare se spieghi le cose se fai diventare una cosa normalità perché è normale così poi anche loro si adeguano e si abituano ho visto e quindi c'è ancora la paura del diverso e della ci sono ancora dei tabù e ancora discorsi un po' della mascolinità tossica ecco però si insegnano secondo me fin da piccoli e si normalizza anche il fatto che io mi sento possessivo geloso eccetera eccetera vado da un medico un psicologo che mi aiuta a capire che questi sentimenti sono sbagliati questi pensieri sono sbagliati e perché io sono convinta che tutti abbiamo dei problemi mentali passami il termine e tutti abbiamo bisogno ogni tanto di parlare e di ricevere aiuto sostegno e consigli e consigli da uno specialista ecco però tante volte o costa troppo o visto come chi ci va è matto invece se normalizzassimo queste visite mettendola appunto a fianco a un medico di base quindi come vai a farti una visita al tuo medico di base vai tranquillamente senza pagare e senza troppi problemi anche dal medico psicologo sarebbe una cosa fantastica secondo me accessibile a tutti e non più visto come una cosa chissà cosa straordinaria e strana avrei altre cose da dire volevo come al solito parlare lentamente ma hanno iniziato tutti i vicini a accendere l'aspirapolvere e fare rumore sono partita presto come un orario preso al mattino ma nonostante questo c'è sempre qualche vicino che ha l'aspirapolvere da accendere nonostante l'orario però va bene diciamo che la cosa principale le cose principali che volevo dire le ho dette vorrei provare a fare altri video dove ti racconto altri story time o altre cose proverò di nuovo a farne uno come parlo lentamente però mi mettono fretta quando accendono fanno rumore i vicini e niente insomma ero partita ma al solito parto bene poi finisco male vabbè spero che questo discorso non ti abbia agitata ho creato ansia non sono andata nei dettagli della vicenda perché sono cose che ormai sono tutti poi io volevo semplicemente dire il mio punto di vista e anche una possibile secondo me soluzione ad alcuni problemi di base che abbiamo nel nostro paese nella mentalità del nostro paese spero che questo video ti sia piaciuto io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura